In questi mesi ascoltando Giuseppe Conte parlare in una delle sue conferenze stampa che normalmente sono soli loqui notturni, sempre veniva la curiosità, ma Giuseppe ci fa o ci è? E' bastato il primo quarto d'ora della conferenza stampa di fine anno in cui il premier magnificava le sue gesta e quelle del governo di luce riflessa, facendosi i complimenti, raccontando che tutto il mondo glieli fa, che la parola errore non ha patria nei suoi uffici, dove tutti si spendono per il bene assoluto degli italiani, per riproporre con forza quella domanda, ci fa o ci è? Perché dopo un anno come quello appena trascorso troverei davvero poche persone disposte a recitare un copione così, e nei confronti di un eventuale Rocco Casalino che l'avesse scritto avrei sentito volare tali vaffa da costringerlo a ricominciare tutto da capo premettendo almeno un chiedo scusa se, la risposta a quella domanda mi è arrivata da un video che tutti possono vedere online del professore Conte che fa lezione agli studenti sulla giustizia civile? Era in lontano 2014, e la politica era ancora distante, Palazzo Chigi al massimo un sogno Una lezione universitaria, dove normalmente si sente citare un testo Non dal professore Conte, che ai poveri studenti per 18 interminabili minuti citò solo se stesso Mi adarrò della mia inclinazione scientifica, esordì davanti ai poveri ragazzi che fra sé avranno detto ma chi se ne frega Lui però tirava innanzi come nulla fosse, cito la mia esperienza di avvocato Doveva fare un esempio sul rapporto fra avvocati e clienti Ecco inevitabile l'autocitazione, io lo chiamo il contatto maiotico fra avvocato e cliente E via con una serie di io ho esperienza Io dico sempre, un tempo io l'avevo definito In quel momento nella mia mente iniziano già a scorrere tutte le norme di legge Che potranno mai avere imparato questi poveri ragazzi A parte di avere avuto davanti il signorio che si sbrodolava di giugiole davanti a uno specchio Ecco la risposta, ci è, non ci fa Il nostro premier è proprio così, non recita Vive di sé, si magnifica i suoi occhi, ingrandisce a dismisura il proprio ego Coglie nel sibilo del vento l'odi sperticate al suo operare Inutile fischiargli, perché lui non capirebbe Li coglierebbe come un segno discreto e sonoro della fiducia che tutti hanno in lui Fanno uscire aria dalla bocca perché sono pazzi di me e vogliono riscaldarmi in giorni così freddi O il contrario in estate Non invidio Matteo Renzi, perché non sarà mai compreso da Conte D'altra parte come si può parlare a un babà che invece di essere ripieno di rum, è zuppo marcio di se stesso